domenica 23 ottobre si parte per atalanta inter speriamo che sia una bellissima partita anche se purtroppo tutta questa notte e questa mattina ha piovuto speriamo bene forza da ranta sempre e comunque ci vediamo fra un poco appena parcheggiato andiamo verso il nostro stadio grazie 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 siamo entrati in tribuna kreiberg grazie a partire da l'interversione dei lunati 8 milanet grado 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.